Ok, questa è la mia prima volta che mi voto in un anno, la prima volta che mi devo desbloccare. Che bello, quando parlo spagnolo, mamma mia che io farei. Il problema è che questa acqua ti chiama, ti presenta. E allora vai, ti chiama, buttate, sbrigate, è il quarto d'ora che stai... Che c***o! E qua vai, oh, aspetta qui. Dai, su, ti devo spingere. Esperate un momento, non mi metta in pressione. Calma, calma, oh, 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 respira, relax, relax. No, perché che passa che trago sempre acqua come una normale. No, relax, relax. Ingoio sempre acqua. Le mani mettili su un acciaio là, guarda. Va spinta, il motore scotta. Va spinta. Ah, no, no, che pinta di che? Buttati prima te. Ah, perché vuole il vino. Allora, fai buttare prima la piccolina. Esperate un secondo. Paragliano, puoi votare? Dammi, Paragliano, puoi votare? Da qua? Siediti. Buttati prima te. Allora, dove ti senti, più sicura? Dai, ho troppo ostacoli qua. Ma ho che ostacoli? Scusa, fare una cosa. Siediti qua. No, mi chiedo dare un piede. Oh, che palle. Eh, mi amo. Eh, paragliano. Eh, paragliano. Siediti qua, su di giù e vai. Poi ci butto io. Dai. Dai, di piedi. Vai al volto. Oh, Dios mio, esperate. Ma non è alto. Ascoltami, ascolta me. Metti la mano attaccata a quella. Esperate, non è la preghiera. Namaste. Oh, la madonna. Ok, esperate. Ah, io mi avevo contato che mi è al contrario, che senso mi dà forza. Dai, dieci. Ah, potrei non farli. No, no, no. Perché? Ancora. Dieci. Ti vuoi in l'ansia, proprio. Senti, vuoi un tavor? Dieci. Nove. Otto. Ti spingo, eh? Sette. No, 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 no. Ecco, appunto, lo so. Sei. Cinque. Sei, garciopa. Ah, mamma mia.